Musica Dopo il pari sul campo è finito con 13 d'aspo il derby di eccellenza Teramo Giulianova. Il questore di Teramo ha comunicato l'emissione dei provvedimenti in seguito ai tafferugli verificatisi prima del match che si è giocato lo scorso primo ottobre, quando alcuni sostenitori del Teramo lanciarono fumogeni al passaggio del pullman del Giulianova Calcio, causando anche un incendio ai margini della carreggiata spento dai vigili del fuoco. Successivamente le due tifoserie sono entrate in contatto nei pressi del botteghino dello stadio Bonolis con lancio di oggetti da parte dei tifosi teramani verso le forze dell'ordine. Al termine delle indagini sono stati identificati 10 supporter biancorossi resisi responsabili di varie condotte illecite. Uno di resistenza pubblica ufficiale, altri di travisamento, utilizzo di strumenti atti ad offendere e uno di violazione di daspo in corso di validità. Nei loro confronti il questore della provincia di Teramo, Carmine Soriente, a seguito dell'istruttoria della locale divisione anticrimine, ha emesso il provvedimento della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle manifestazioni sportive di durata dai 2 agli 8 anni. Alcuni di loro, essendo già recidivi, dovranno anche presentarsi all'ufficio di polizia competente in occasione delle partite disputate dal Teramo. Lo stesso provvedimento è stato adottato nei confronti di una donna, sostenitrice della Teramo Calcio, ritenuta responsabile, sulla base di elementi di fatto, di condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza. Infine il daspo è stato combinato a due sostenitori del Giulianova che hanno scavalcato la recinzione della curva facendo invasione di campo.